prima donna nella squadra mobile di matera oggi anche di bari veramente anche di bari ma oggi anche numero due della questura di matera insomma una donna che ce l'ha fatta mi mette in imbarazzo questa domanda perché io non so se ce l'ho fatta in realtà no non mi piace dire ce l'ho fatta non è una bella risposta forse ho raccolto un po quello che ho segnato forse questo quanto è stato difficile però affermarsi qualche modo e come la vita è tutto difficile se se si pensa solo ed esclusivamente alle difficoltà io non ho pensato alle difficoltà ho pensato ad altro pensato che forse era importante impegnarsi e quindi quando ci si impegna e quindi quando ci si crede forse le cose sono molto più semplici oggi matera è l'ombelico del mondo dal punto di vista culturale non è stato sempre così quindi è stato anche non semplice lavorare operare in una città che possiamo dirlo un po anche come foggia può essere considerata di provincia o no matera sta vivendo un momento assolutamente straordinario è una città bellissima meravigliosa e forse sì era una città che andava assolutamente scoperta sia pure in ritardo nel 2019 ma che ben venga possiamo dire che in ogni caso voi ce l'avete in mano come sicurezza direi direi proprio di sì ma ecco abbiamo appena iniziato l'anno europeo della cultura e quindi insieme naturalmente al questore liguori ce la stiamo mettendo tutta ecco però ci crediamo molto e devo dire che i primi risultati importanti sono arrivati perché il giorno della inaugurazione della dell'anno europeo della cultura ci ha dato ci ha regalato grandi soddisfazioni sicuramente com'è tenere lo scettro del potere dire in una realtà fatta anche di molti poliziotti e quindi di molti maschi ma non si pensa mai al allo scettro del potere l'ho detto prima in conferenza l'uomo sul comando non ha senso siamo le donne sul comando non sono delle regine senza 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 popolo non si può non si può governare se non sia una squadra e dunque il potere si esercita soltanto se c'è una giusta condivisione con gli altri oggi alle ragazze soprattutto le giovanissime che consiglio sente di poter dare si sono sono tanti consigli ma io ho detto loro in conferenza che il mio ex factor è stata la consapevolezza è stato un percorso io auguro alle ragazze di seguire il loro percorso di consapevolezza e dunque un senso di realtà costante e ai maschietti che cosa pensa di dire domanda da un milione di dollari beh di cominciare a rivedere un po' se stessi questo sì ecco forse un percorso di consapevolezza anche da parte dei maschi non sarebbe bravo e anche da parte dei maschi non sarebbe da parte dei maschi non sarebbe da parte dei i